buongiorno allora oggi il buongiorno ve lo do in macchina e voglio fare vedere l'Etna e nel frattempo vi saluto anche la signorina che ha fatto il compleanno l'altra volta e ci tengo che tutti voi le fate gli auguri guardate l'Etna che bella non si riesco a trumare guardate che bella cioè favolosa e poi prendiamo in giro i turisti che si fermano che si fermano per riprendere l'Etna è spettacolare visto da un altro punto sempre l'Etna le persone ci prendono per pazzi niente sono le 5 e quattro e noi ci stiamo facendo un giro ma come l'ora siamo fermi si per ora siamo fermi e siamo in tre poi ti ho salutato nel vlog di ieri non so se hai visto ho salutato l'amica misteriosa qui è con me o nera qui con me no ora sei qui con me invece c'è questa che si sta leggendo il giornale del libero chef perché un giornale non è un catale perché si chiama anche libricino o album lo puoi chiamare in diversi modi comunque niente stai a stare a loro vanno a mangiare la pizza e lei invece gioca a carte con i vecchi io sto a casa che non sono i vecchi soldi i suoi nonni e i zii parelli no io invece sto a casa lei è già vecchia dentro no io invece sto a casa perché festeggio il compleanno di mio nonno ormai lei è nel suo a stare con gli anziani si perché praticamente no devo essere sincera la moglie mi ha iniziato il corso mi mancano gli anziani certo perché senti proprio la mancanza no no veramente soprattutto della signorina cioè che è la migliore lei non lo so sento la mancanza sento la mancanza perché comunque sia è ormai qualcosa che fa parte di me cioè della tua vita della tua quotidianità pensa il prossimo anno loro mi prendono in giro però non lo so è già odd però avrò una voce oscena loro mi prendono in giro però realmente a me mancano comunque voglio far vedere il tramonto guardate ecco allora l'analvolante bene non vedo niente dietro quanto attacco questo qui niente ragazze noi ci stiamo facendo sempre un giro prima eravamo ferme abbiamo parlato io adesso vi parla qui l'amica misteriosa no poi puoi continuare a parlare e niente che voglio raccontare di vedere il panorama di più questa è la strada questa è la strada questa è la strada no perché noi realmente non abbiamo le strade voliamo voliamo noi sì voliamo perché noi stiamo volando in effetti a nessuna che non so forza te aspettano qui c'è Fabio quello che vende i pastorelli che dovevo imparare Fabietto però c'è anche freddo quindi possiamo anche chiudere fai vedere che la temperatura la temperatura una volta grande immagini io direi che a questo ce l'ho sempre sì perché le persone qui passano mi raccomando quando guidate le frecce per informazione mettete le frecce no lei con calmo perché giustamente noi fretta non ne abbiamo occhio puoi dire puoi dire io odio chi non mette la freccia perché non è giusto ora puoi anche chiudere perché siamo nel paese dei banocchi è Natale è Natale si può fare di più è Natale è Natale si può amare di più ma così non te lo bannano per noi Natale puoi basta posso fare minimo 30 secondi basta non faccio niente più non canto più perché poi youtube mi spamma quindi basta puoi chiudere allora ragazzi io vi mando la buonanotte spero che questo vlog sia piaciuto oggi è stata comunque una giornata più più movimentata rispetto magari le giornate le giornate diciamo settimanali mentre il weekend è più movimentato quindi spero che vi sia piaciuto questo vlog vi mando un bacio vi do la buona notte e a domani buona notte per la buona notte per la buona notte